e buonasera buonasera bella jetebo di soprattutto e benvenuti in questa nuovissima puntata di ozio lord con il nostro di death strike diretto cult come state raga tutto bene prima inizia la live come sempre vi ricordo a tutti che oltre a me c'è sempre tanta bella gente simpatica che abbiamo in live soprattutto la nostra unilora appena concluso la live facendo un ride da una sua amica poi abbiamo il nostro nora emulare che passione gre 92 babalussi la sala giochi ledigro fax e channe vivi sector nabitv kill jody tommy 89 cala e mitico ok raga datemi qualche secondo che devo sistemare solamente ecco fatto ok un po il salvataggio più vecchio vedete raga non mi ero accorto che a quanto pare c'è stato un errore e quindi non si è detto tutto registrata la live quindi devo ricaricare se ricordo bene avevo iniziato un po il salvataggio più tardi 10 ecco qui il 14 e questa qua la data perfetto è stato un bagno del sistema che non mi aveva neanche segna carico wow grande ce l'hai fatta ma come fai a portarlo stupefacente grazie per aver portato tutta questa roba sei troppo gentile fattoria rigattiere solo questo esoscheletro meglio che lo consiglio ok ok questo farò con la prossima missione come se c'è qualcosa da riciclare ma sti stivali che hanno già subito tutto sto danno senza neanche usarli ma sti stivali grazie grazie per il fuoco 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 Grazie a tutti Ok Grazie a tutti Ok Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Hai abbastanza spazio Grazie a tutti No Grazie a tutti No Grazie a tutti Grazie a tutti No 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 Ma guarda, è praticamente nuova di zecca. Ascolta, so che è un sacco di roba da trasportare, ma se ti avanzassi un po' di spazio, c'è qualcosa che vorrei darti. Grazie ancora di tutto. E vedi di stare attento là fuori. Ben fatto. Nuovo ordine di riuscito. Accedi al terminale delle porti. Grazie a tutti. Dovresti riposare. Limite alle armi revocate. Abbio scanzione. Scanzione isidratica. Controllo ID. Ok. Rilevate armi. Saranno bloccate sulla patria. Accettato. Benvenuto. Limite alle armi revocate. Grazie. 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 Grazie a tutti 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 Niente Grazie a tutti 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 Grazie a tutti